Il fenomeno della colonizzazione israeliana dai territori occupati è nato nel 1968 quando un nucleo ristretto di ebrei affittò presso un hotel di Ebron alcune camere con l'intento di trascorrere la Pasqua con le proprie famiglie residenti in Israele. Guidata dal rabbino Moshe Levinger, questa comunità si stabilì presso una base militare in stato di semiabbandono situata sulla collina che sovrasta Ebron in base a un accordo raggiunto a coronamento di un'estenuante trattativa con il governo laborista guidato da Levi Eshcol il quale intendeva preservare nella loro condizione originaria i territori occupati al termine del conflitto del 1967 in vista della loro restituzione a Giordania, Egitto e Siria come contropartita per l'ottenimento della pace e del riconoscimento di Israele. Nacque così l'insediamento di Kiryat Arba, vera e propria capitale spirituale dei cosiddetti Gush Emunim, il blocco dei fedeli che riconoscendosi nelle posizioni il transiste promosse da Levinger anera a ebrecizzare questi territori ad ogni costo, nel senso letterale dell'espressione. Se il sionismo di ispirazione socialista e laico delle origini puntava a conquistare, difendere e mettere a frutto la terra avvalendosi di fucile, aratro e zappa, la visione di Levinger assolvere alla missione teologica di riunire la diaspora ebraica nelle aree appartenute ai regni di Israele nel periodo antecedente alla distruzione del secondo tempio. La realizzazione del progetto concepito dal rabbino presa via con la colonizzazione, tollerato appoggiata silenziosamente, dei territori occupati secondo lo schema originario del cosiddetto piano Allon, implicante l'annessione della valle del Giordano, della dorsale di Gerusalemme e dei monti della Giudea a sud di Betlemme. Il vero salto di qualità coincese tuttavia con le elezioni del 1977, culminate con il triunfo del Likud di Menachem-Bevgin, che in Francia è ormai trentennale egemonia esercitata dalle forze laburiste. Fu da quel momento che la colonizzazione della Cisgiordania e del Golan assurse obiettivo prioritario, da conseguire anche grazie al sostegno della potentissima Israel lobby statunitense e del mare magnum del sionismo cristiano americano. Nonché delle manovre di Sharon, che rimuovendo dalla striscia di Gaza i 15.000 coloni ivi residenti e ricollocandoli in Cisgiordania, inviò un segnale difficilmente equivocabile circa l'intenzione del governo di trasformare i territori occupati a ovest del fiume Giordano nella destinazione privilegiata in cui allocare coloni e realizzare lo stato ebraico, come dichiarato apertamente dallo stesso Sharon nel 2005. Secondo lo storico Eud Sprintzak, la maledizione per il nostro popolo è stata la vittoria del 1967, quando il nazionalismo sionista laico, impadronendosi dei luoghi santi ebraici, si è sposato con la destra religiosa xenofoba, che si esprime nei tre partiti a cui Likuzzi è associato a partire dal dicembre del 2022, per formare l'attuale governo guidato da Benjamin Netanyahu. Nello specifico si tratta dello Yedut HaTorah, ebraismo della Torah Unito, controllato dal gruppo religioso degli ebrei Aredim Ashkenaziti, dello Shaz, partito degli ultraortodossi sefarditi e mizrahi, del Haziut Hadit, partito sionista religioso, facente capo all'ortodossia ebraica più radicale. Si tratta di movimenti oltransisti, rappresentati a livello istituzionale da personaggi come il ministro delle finanze Bezabel Smotrich e il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Bengvir, ed è divenuto ripetamente oggetto di fortissime contestazioni di piazza. Contestazioni che sono scaturite in primo luogo dalla controversa riforma giudiziaria miranti a minare l'indipendenza della Corte Suprema attraverso la limitazione della cosiddetta clausola di ragionevolezza che garantisce all'organo la facoltà di magnificare alcuni provvedimenti del governo. Oltre a generare grande malcontento popolare, l'iniziativa provoca una sorta di ammutinamento interno agli apparati di sicurezza israeliani, con una serie di proteste culminate con l'interruzione dell'addestramento e il rifiuto alla chiamata alle armi di migliaia di riservisti dell'esercito. Tra i quali figurano 37 dei 40 membri di cui si compone il noto battaglione 69, una forza d'elite impiegata in azioni particolarmente complesse e controverse come l'operazione Orchard. Prima che la Knesset si pronunciasse in merito al segmento principale della riforma, il numero di riservisti che aveva proclamato la propria intenzione di venire meno ai propri obblighi in caso di approvazione ammontava 1142 unità. Ad appena 48 ore di distanza dal voto, la platea si era allargata ad altri 120 riservisti. Nel complesso, il fenomeno dell'autosospensione sarebbe arrivato a coinvolgere qualcosa come 10.000 riservisti. Dati piuttosto preoccupanti, specialmente per un esercito chiamato a compensare all'eseguità numerica dei propri effettivi con un bacino relativamente molto ampio di riservisti e che, fatta eccezione per gli ultraortodossi che si dedicano in via semi esclusiva allo studio della Torah, con un 13% circa della popolazione, si fonda sulla leva obbligatoria estesa indiscriminatamente a uomini e donne e trae quindi forza e legittimazione del suo carattere eminentemente popolare. Non a caso, l'onda d'urto irradiata dal rapido allargamento delle defezioni si è rilevata talmente dirompente da spingere il ministro della difesa, Joff Gallant, a dichiarare dinanzi alla Knesset che il rifiuto a servire di un numero crescente di riservisti potrebbe danneggiare nel lungo termine la capacità di combattere dell'esercito, anche se al momento i danni sono limitati. In termini sostanzialmente analoghi ma più o più occupati, si sono espressi 60 riservisti inquadrati nell'unità di intelligence a Zvalot, che attraverso ben quattro lettere indirizzate al primo ministro Netanyahu hanno evidenziato i rischi che l'eliminazione della clausa di ragionevolezza avrebbe comportato per la capacità di deterrenza israeliana nei confronti di Iran ed Hezbollah. Un pericolo di non sottovalutare, specialmente alla luce dell'inaspiramento delle tensioni con la popolazione palestinese, verificatosi per effetto diretto dell'incremento numerico degli insediamenti nei territori occupati della Cisgiordania. Si tratta di un fenomeno tutt'altro che nuovo, ma a cui l'esecutivo insediato si nel dicembre del 2022 ha impresso una drastica accelerata. Nel febbraio di quest'anno il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato con effetto retroattivo la trasformazione di 10 avamposti esistenti in 9 nuovi insediamenti. Simultaneamente, il Sottocomitato per gli insediamenti del Consiglio Superiore di Pianificazione dell'Amministrazione Civile della Cisgiordania ha emanato una serie di piani regolatori che autorizzano l'integrazione di ulteriori 5 avamposti come nuovi quartieri all'interno degli insediamenti già presenti. A pochi giorni di distanza, il governo ha ottenuto dall'Akneset il Placet per emendare la legge sul disimpegno del 2005, che aveva introdotto il divieto per i cittadini israeliani di entrare negli insediamenti situati nelle aree settentrionali della Cisgiordania. La modifica ha non solo comportato la revoca del divieto, ma ha anche autorizzato il governo a promuovere la ricononizzazione dell'avamposto di Osmeh, localizzato su terreni appartenenti ai palestinesi residenti nel villaggio di Burka, presso il governatorato di Nablus. Trattandosi di uno dei quattro insediamenti della Cisgiordania smantellati nel 2005 ai sensi del piano di smobilitazione, riporta Arez, Omesh è divenuto il simbolo per il movimento dei coloni. Ad aprile, l'amministrazione civile ha annunciato l'intenzione di avviare i lavori propedeutici alla costruzione di una strada, già pianificata e sostenuta con forza dal governo guidato in Aftali Benet, che la definì strada della sovranità, tra l'Azariah e Azaim, nei pressi dell'insediamento Mahale Adunim, situato nelle aree a Est-Gerusalemme riunite nel blocco E1 dal piano di smobilitazione. La realizzazione della strada determina automaticamente la deviazione di tutto il traffico palestinese dall'area interessata, limitando così in maniera drastica la libertà di movimento dei palestinesi in una vasta area della Cisgiordania che dovrebbe costituire parte integrante del loro stato. Come ha dichiarato lo stesso Sindatko di Mahale Adunim, questa strada mira separare il flusso di trasporto tra la popolazione palestinese e quella israeliana nell'area E1, in modo tale che i veicoli palestinesi possano viaggiare senza passare attraverso il blocco di Mahale Adunim, nei pressi delle località ebraiche. Osservata da un punto di vista politico, la strada collegherà Gerusalemme a Mahale Adunim, consentendo la costruzione di insediamenti ebraici nella zona E1. L'arteria stradale si inserisce perfettamente in un più ampio progetto di segregazione delle reti di trasporto, destinato ad assorbire una quota sostanziosa del bilancio approvato dal governo per il 2023-2024. Per la riqualificazione della rete viaria della Cisgiordania, implicante la costruzione di tangenziali dedicate ai coloni in tutte le aree della West Bank di Gerusalemme Est, sono previsti stanziamenti pari a 3,5 miliardi di shekel, corrispondenti a circa 920 milioni di dollari e equivalenti al 25% dell'intero budget israeliano per le strade. Fondi altrettanto ingenti dovrebbero essere investiti nell'accelerazione e intensificazione del processo di colonizzazione dei territori occupati, come si vinse dai 570 milioni di shekel assegnati al Ministero degli Insediamenti e delle Missioni Nazionali, e dall'incremento dei finanziamenti destinati sia allo sviluppo degli insediamenti, che dovrebbero passare dai 65 ai 105 milioni di shekel tra il 2022 e il 2024, sia all'espansione degli avamposti, con stanziamenti pari a 260 milioni di shekel. Nel complesso, tra il gennaio e settembre del 2023, le autorità di pianificazione dell'amministrazione civile e del Ministero dell'edilizia hanno promosso la costruzione di strutture abitative pari a 12.349 unità per gli insediamenti in Cisgiordania e a 18.223 unità per quanto concerne Gerusalemme Est. In una certa misura, le misure adottate a questo proposito dal governo Netanyahu configurano sostanziali soluzioni di continuità rispetto al passato. Per accorgersene, è sufficiente rivolgere il nastro ai primi anni del nuovo millennio, quando allora Premier Ariel Sharon annunciò l'innalzamento del muro di separazione, lungo 712 chilometri comprendente reticolati elettrificati, sentieri di angiramento, trincee, parete di cemento armato, rilevatori di movimento, in corrispondenza di lunghi tratti della linea verde di cessata il fuoco pre-1967 che delimita i confini della Cisgiordania. La costruzione di questa barriera protettiva, che fa seguito alla realizzazione della frontiera elettrificata lungo i confini di Gaza ai tempi dell'Intifada, rispondeva parimenti a quest'ultima a motivazioni ufficiali legate alla difesa dal terrorismo palestinese. Ma ha di fatto sancito l'annessione israele di alcuni territori della Cisgiordania e di tutta la municipale di Gerusalemme. Come si leggeva nel novembre del 2002 sulle Mont Diplomatique, una volta completato il muro, dal nord della Cisgiordania a Gerusalemme, lo Stato ebraico si sarà annesso il 7% della West Bank, tra cui 39 colonie israeliane e circa 290.000 palestinesi, 70.000 dei quali non hanno ufficialmente diritto di residenza in Israele e non potranno pertanto viaggiare e beneficiare dei servizi sociali israeliani. Questi 70.000 palestinesi vivono in una situazione di estrema vulnerabilità e probabilmente saranno costretti a emigrare. Se il muro verso il sud si spingerà fino a Ebron, si ritiene che Israele si sarà annessa un altro 3% della Cisgiordania. Alla fine, nonostante gli accordi di Oslo l'avessero assegnata alla giurisdizione dell'autorità nazionale palestinese, Ebron è stata divisa in due parti separate, una delle quali risulta inaccessibili ai palestinesi in quanto abitata da 400 colonie israeliane, protetti da recinzioni fortificate, checkpoint e circa 4.000 soldati armati fino ai denti. A Gerusalemme Est, invece, si concentra il processo di esproprio di moltissimi ettari di terreno ai palestinesi che alla base della crescita vertiginosa e allegale ai sensi del diritto internazionale della popolazione ebraica. Nel 2020 la comunità ebraica insediata a Gerusalemme Est ammontava 234.000 unità a fronte delle 85.000 registrate nel 1948. Da decenni ormai si assiste a un progressivo allargamento del centro urbano della città santa, con la demolizione dei caseggiati di proprietà dei palestinesi per lasciare spazio a nuovi quartieri da destinare alle famiglie ebraiche. Parallelamente, le autorità cittadine ritiravano migliaia di carte d'identità ai palestinesi residenti nella zona orientale, ai sensi di un sistema burocratico particolarmente stringente, votato in tutta evidenza a spingere gli arabi a trasferirsi in Cisgiordania per mantenere l'accesso alle cure sanitarie e ai servizi essenziali. Si parla di qualcosa come 100.000 palestinesi deprivati della cittadinanza e 200.000 abitazioni distrutte per far posto a nuovi edifici per famiglie ebraiche. Nel complesso, la comunità dei coloni, praticamente inesistente verso la fine degli anni sessanta, è cresciuta vertiginosamente, fino a raggiungere le attuali 700.000 unità distribuite in 279 insediamenti. La colonizzazione di Gerusalemme Est, della Cisgiordania e del Golan è stata oggetto di un'indagine del comitato speciale nominato dalle Nazioni Unite con l'incarico specifico di indagare sulle pratiche israeliane nei territori occupati. Nel rapporto finale pubblicato dal comitato nel luglio del 2022 si legge che la visita ha avuto luogo in un contesto di crescente violenza da parte dei coloni e delle forze di sicurezza israeliane contro i palestinesi, arresti e detenzioni arbitrarie e restrizioni alla libertà di espressione e di movimento, nonché una crescente cultura dell'impunità. Il comitato si rammarica che Israele non abbia risposto alla sua richiesta di consultazioni con le autorità israeliane o di accesso a Israele, al territorio palestinese occupato e al Golan siriano occupato. Il persistente rifiuto di Israele di impegnarsi nei meccanismi delle Nazioni Unite rispecchia una mancanza di responsabilità per quanto riguarda la condotta israeliana nei territori palestinesi occupati, che è stata portata all'attenzione del comitato speciale durante tutta la missione. Il documento risale al luglio del 2022, quando l'attuale esecutivo era ancora molto al di là dal formarsi e sotto la cui direzione si è assistito a una netta intensificazione dell'attivismo militare in Cisgiordania. Una dinamica chiaramente riscontrabile da episodi quali l'attacco contro il campo profughi di Jenin, sferrato nell'estate del 2023 dall'Israeli Defense Force, allo scopo ufficiale di smantellare un presunto quartier generale di Hamas IV installato. Bilancio dell'operazione, dieci morti, centinaia di feriti, migliaia di palestinesi in fuga e vibranti proteste formulate da Abu Mazen, che in qualità di presidente dell'autorità nazionale palestinese ha invocato, come sempre senza successo, un intervento d'urgenza delle azioni unite volto a costringere Israele a bloccare le evacuazioni degli abitanti di Jenin. Vale a dire la stessa località che è stata presa nuovamente di mira dall'esercito israeliano lo scorso 29 ottobre, attraverso un raid condotto con l'ausilio di un centinaio di veicoli militari e un paio di bulldozer che ha lasciato sul campo almeno quattro vittime feriti. Il Ministero della Salute palestinese ha annunciato che, nell'arco temporale intercorrente tra l'operazione di Luvio al-Aqsa e il 30 ottobre, circa 120 palestinesi residenti in Cisgiordania erano caduti per mano delle forze armate israeliane e dei coloni, in una spirale di violenza che rischia di innescare un nuovo esodo di palestinesi oltre le acque del fiume giordano. Agli occhi dell'apparato dirigenziale di Amman il gioco è completamente scoperto. Qualsiasi tentativo, attuonato Birsh al-Kajamne, primo ministro giordano, di espellere o creare le condizioni per sfollare i palestinesi dalla striscia di Gaza o dalla Cisgiordania rappresenta una linea rossa che la Giordania considererà una dichiarazione di guerra. La devastante reazione nei fatti del 7 ottobre, sui quali alleggiano non poche ombre, ha funto senza ombra di dubbio da catalizzatore rispetto a processi predatori già in atto, agevolati anzitutto dalla silenziosa ma decisiva manovra burocratica attuata dal governo che ha sancito il trasferimento del controllo sui territori occupati dall'amministrazione militare a quella civile, e nello specifico ai dipartimenti facenti capo al Ministero delle Finanze, diretto da un referente indiscusso del movimento dei coloni come Bezzalen Smotric. Il provvedimento ha comportato l'eliminazione di gran parte delle preesistenti procedure diplomatiche di sicurezza necessarie all'applicazione dei programmi di espansione degli insediamenti, che d'ora in poi verranno inoltrati direttamente ai comitati di pianificazione in Cisgiordania. Come ha salvato Michael Svard, avvocato israeliano specializzato in questioni di diritto internazionale, il passaggio delle questioni afferenti alla gestione degli insediamenti dall'autorità militare all'amministrazione civile rappresenta una conclamata violazione del diritto internazionale, perché sancisce l'annessione de facto dei territori occupati nello Stato israeliano. Un obiettivo che traspare vistosamente dalle iniziative adottate nel corso degli ultimi decenni dalla classe dirigente israeliana, nonché perfettamente riscontrabile nelle linee guida stabilite dal governo Netanyahu, in cui si afferma testualmente che il popolo ebraico ha un diritto esclusivo e inalienabile sull'intera terra di Israele. Il governo promuoverà e svilupperà gli insediamenti in tutte le parti della terra di Israele, Galilea, Neg, Golan, Giudea e Samaria. Lo stesso concetto è stato ribadito in termini più grossolani da Amikai Heliau, che in qualità di ministro per il patrimonio culturale e membro del partito Zama Yudit, ha bollato come fittizia la linea verde definita ai sensi degli accordi di Oslo, ed esortato il governo ad annettere la Cisgiordania. Non penso davvero, ha dichiarato Heliau, lo stesso che ha recentemente definito allo sganciamento di un ordigno nucleare sulla striscia di Gaza una possibilità, che esista una linea verde. Si tratta di una linea fittizia. Questa è la nostra patria. È qui che è nato il nostro popolo. L'atteggiamento dello Stato di Israele secondo cui qui ci dovrebbero essere due stati è erroneo. Dovremmo imporre la sovranità su Giudea e San Maria. Dovremmo portare avanti questo processo il più rapidamente possibile, nel modo più intelligente possibile. Dovremmo cominciare a dirlo ovunque, così da giudicarci il relativo riconoscimento internazionale. C'è una realtà distorta che dobbiamo cancellare. Nell'ottica della classe dirigente israeliana, l'annessione della Cisgiordania riveste tuttavia una rilevanza non riconducibile al solo ambito religioso nazionalistico. Come si evince da un cruciale documento strategico comparso sulla rivista Kim Unim nel 1982, a firma dello specialista Odedinon, analista molto ammanicato con le alte sfere del Ministero degli Ester israeliano. Il suo piano disegnava come finalità fondamentale per Israele la riconfigurazione integrale della carta geopolitica del Medio Oriente, attraverso quella balcanizzazione degli stati aremi circostanti che sia in senso geografico-territoriale che nell'accezione etno-sociale sarebbe divenuta l'asse portante della dottrina strategica israeliana nei decenni successivi. Inon era convinto che le nuove entità statali di piccole dimensioni e forza ridotta, venuteci a creare con l'applicazione del suo piano, sarebbero state attratte in un confronto serrato e logorante con i loro vicini altrettanto deboli e ridimensionati, rinforzando di fatto alla posizione dello Stato ebraico. Ciò che vogliamo, scrive Venon, non è un mondo arabo, ma un mondo di frammenti arabi destinato a soccombere all'egemonia israeliana. Occorreva pertanto favorire la frammentazione della Siria e dell'Iraq secondo linee etniche e religiose, così come avviene oggi in Libano. Nei territori corrispondenti all'attuale Siria nascerà uno stato alawita, cioè un gruppo sincretico filo-sita, lungo la costa, uno stato sunnita intorno ad Aleppo, un altro stato sunnita nell'area di Damasco, stile al suo vicino settentrionale, e uno stato druso nell'Auran e nel nord della Giordania. L'Iraq, ricco di petrolio ma sempre più eroso al suo interno, rientra anch'esso nei piani di Israele. Per noi la sua dissoluzione è persino più importante di quella della Siria. Qualsiasi genere di scontro interno al mondo arabo ci favorirà nel breve periodo e accorcerà la strada che conduce all'obiettivo capitale, rappresentato dalla frammentazione dell'Iraq in varie entità statali. In Iraq è possibile attuare una suddivisione in provincia su base etnica e confessionale, analoga a quella della Siria all'epoca dell'impero ottomano. Si verranno così a creare tre o più stati attorno alle tre città principali, Bassora, Baghdad e Mosul, mentre le regioni sciite del sud del paese saranno separate dal nord-sunita e kurdo. Ma soprattutto, Inon sosteneva che la politica d'Israele, sia in guerra che in pace, deve essere orientata a liquidazione della Giordania sotto l'attuale regime e il trasferimento del potere alla maggioranza palestinese. La modifica del regime a est del fiume causerà anche la risoluzione del problema dei territori densamente popolati dagli arabi ad ovest del Giordano. Sia in guerra che in condizioni di pace, le migrazioni dei territori e il loro congelamento economico e demografico sono le garanzie per il prossimo cambiamento su entrambe le rive del fiume e noi dobbiamo essere attivi al fine di accelerare questo processo nel prossimo futuro. La coesistenza genuina e la pace regnerà sulla terra solo quando gli arabi comprenderanno che senza dominio ebraico tra il Giordano e il mare non avranno alcuna esistenza né sicurezza. Una loro nazione sarà possibile solo in Giordania. Dovrebbe essere chiaro, in ogni futura situazione politica militare, che la soluzione del problema degli arabi indigeni giungerà soltanto nel momento in cui riconosceranno l'esistenza di Israele nei confini sicuri fino al fiume Giordano, come un nostro bisogno esistenziale in questa difficile epoca, l'epoca nucleare in cui ci apprestiamo ad entrare. Non è più possibile vivere con tre quarti della popolazione ebraica concentrata sulla costa, è molto pericoloso in un'epoca nucleare. La dispersione della popolazione è quindi un obiettivo strategico nazionale di primissimo ordine. In caso contrario dovremmo cercare di esistere entro i nostri confini. Giudea, Samaria e Galilea sono la nostra unica garanzia per l'esistenza nazionale e se non diventiamo maggioranza nelle zone di montagna non riusciremo a governare questo stato. Riequilibrare il paese demograficamente, strategicamente ed economicamente è l'obiettivo più alto e centrale di oggi. Nell'equazione rientra con ogni probabilità anche la riacquisizione del controllo sulla striscia di Gaza, abbandonata nel 2005 per effetto del provvedimento assunto da Ariel Sharon. Lo si evince non soltanto dai confini raffigurati all'interno della mappa esibita lo scorso settembre da Netanyahu in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma anche dai provvedimenti assunti in seguito all'operazione diluvio di Al-Aqsa. A partire dall'ordine di evacuazione diramato lo scorso 13 ottobre, implicante il trasferimento di oltre un milione di palestinesi dalle zone settentrionali a quelli meridionali della striscia, così da sgomberare della popolazione residente un'area grande poco meno della metà di quell'angusto affazzoletto di terra, in vista dell'intensificazione dei bombardamenti aerei e dell'invasione. Nonché, in una prospettiva di più lungo periodo, dell'annessione quantomeno della porzione di striscia di Gaza appena svuotata, come suggerito dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro degli esteri israeliano Eli Cohen all'emittente radiofonica di riferimento dell'esercito israeliano, secondo cui, cito testualmente, all'eliminazione di Hamas farà seguito alla riduzione del territorio della striscia di Gaza. Si tratta di un'esternazione quantomeno ambigua, perché potrebbe preludere sia la creazione di una zona a cuscinetto attorno alle enclave, sia l'incorporazione tukur di parte della striscia nello stato israeliano, invocata con forza dal movimento dei coloni. Un'ozione, quest'ultima, che risulta valorata dall'effetto pratico sortito dall'ordine di evacuazione del 13 ottobre, consistente nella compressione di una vera e propria marea umana sul valico di Rafa, controllato dall'Egitto. La pressione fisica, per di più, è stata rapidamente affiancata a quella politico-diplomatica, come si ricava dalle indiscrezioni raccolte e pubblicate dal Financial Times, secondo cui Netanyahu avrebbe attivato i contatti con le controparti europee affinché convincessero le autorità del Cairo ad accogliere un numero imprecisato di profughi palestinesi. Nella stessa direzione porta un documento del Ministero dell'Intelligence israeliano reperito e reso di pubblico dominio dal quotidiano israeliano Mechomit, in cui si afferma che il miglior risultato possibile a cui Israele può puntare una volta concluso il conflitto consiste nel trasferimento della popolazione palestinese residente nella striscia di Gaza presso il Sinai. Secondo il giudizio degli autori del rapporto, questa opzione produrrà risultati strategici positivi a lungo termine, a differenza di quelle implicanti l'instaurazione della sovranità dell'autorità nazionale palestinese sulla striscia di Gaza, che sembra scontare l'approvazione degli Stati Uniti, o in alternativa la creazione di una compagine di governo alternativa ad Hamas. Entrambe le possibilità, si sostiene all'interno del rapporto, non fornirebbero adeguate garanzie di deterrenza. Il rapporto suggerisce quindi di attuare il progetto di deportazione in tre fasi distinte. La prima prevede lo spostamento della popolazione palestinese verso le aree meridionali della striscia di Gaza, mentre l'aeronautica militare si sarebbe occupata di bombardare la parte sedentrionale della striscia. Nella seconda avrebbe preso avvio l'invasione terrestre, volta la pulizia dei bunker sotterranei dei combattenti di Hamas in vista della successiva occupazione dell'intera striscia. La terza prevede la creazione di un corridoio umanitario che garantisca l'esodo dei palestinesi verso una serie di tendopoli da allestire appositamente nella penisola egiziana e la successiva costruzione di insediamenti destinati ad ospitare la popolazione oggetto di trasferimento. L'ultimo passaggio verteva sulla creazione di una terra di nessuno, una sorta di fascia di sicurezza por fronte a svariati chilometri nel territorio del Sinai per prevenire un possibile controesido dei palestinesi sfollati. Significativamente il documento evidenzia esplicitamente la necessità di agevolare l'attuazione del programma attraverso il coinvolgimento dei paesi arabi, della Turchia, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sui quali far leva da un lato per esercitare con successo pressioni sull'Egitto affinché accolga gran parte dei profughi e dall'altro in un'ottica di condivisione degli sforzi per l'accoglimento e il ricollocamento dei palestinesi. La rinitenza del Cairo, che tramite il presidente al-Sisi ha reso noto che l'esodo dei palestinesi dalla striscia di Gaza verso il Sinai metterebbe a repentaglio la pace siglata tra Begin e Sadat nel 1979, potrebbe essere vinta grazie a uno sforzo diplomatico internazionale adeguatamente coordinato. Perché di fronte allo scenario di devastazione generato dagli attacchi israeliani, l'Egitto avrà l'obbligo ai sensi del diritto internazionale di consentire il passaggio della popolazione. Nel rapporto si propone anche di affiancare alle operazioni militari una campagna di sensibilizzazione finalizzata per un verso a spingere paesi come Arabia Saudita, Marocco, Libia e Tunisia a contribuire all'accoglimento dei fratelli palestinesi e per l'altro a motivare i cittadini della striscia di Gaza ad accettare il piano e a rinunciare in via definitiva al ritorno presso le proprie terre. I messaggi, recita ancora il rapporto, dovrebbero ruotare attorno alla perdita della terra, cioè far capire che non c'è più alcuna speranza di ritornare nei territori che Israele occuperà nel futuro prossimo. Oltre ad attutire per quanto possibile il danno d'immagine per Israele, l'iniziativa di pubbliche relazioni si propone anche di presentare il programma di trasferimento della popolazione palestinese come una soluzione non soltanto necessaria e meritevole di sostegno internazionale, in quanto capace di emizzare il numero di vittime della popolazione civile, ma anche naturale alla stregua di quelle verificatesi sulla scia dei conflitti afgano, siriano e ucraino. Il contenuto del rapporto redatto dagli specialisti del Ministero dell'Intelligence israeliano, diretto da Gal Gamliel, è stato oggetto di una sorta di studio di fattibilità condotto, a pochi giorni anch'esso di distanza dall'operazione diluvio al-Aqsa, dal MISGAV Institute for National Security and Zionist Strategy, un team tank israeliano presieduto da Meir Ben Shabbat, ex membro di alto livello dello Shimbeth, considerato unanimemente uno dei principali architetti degli accordi di Abramo. Nello studio, supervisionato dal ricercatore Amir Weitman, si sostiene che allo stato attuale esiste un'opportunità più unica che rara per evacuare l'intera striscia di Gaza in coordinamento con il governo egiziano, da attuare attraverso un progetto realizzabile ed economicamente sostenibile, anche perché perfettamente in linea con gli interessi geopolitici di Israele, Egitto, Arabia Saudita e Stati Uniti. Il documento suggerisce anche che i palestinesi potrebbero essere ospitati nelle due maggiori città satellite del Cairo, dove sorgono appartamenti sufficientemente ampi e numerosi a ospitare 6 milioni di persone che i comuni egiziani non possono permettersi. Secondo le stime formulate dagli analisti di Misgav, il valore di mercato medio delle unità abitative presi in esame dallo studio ammonterebbe a circa 19.000 dollari. Ne consegue che l'intera operazione di alloggiamento dei palestinesi presso le due città egiziane assorbirebbe appena 8 miliardi di dollari, pari all'1,5% circa del PIL israeliano, e potrebbe essere quindi favorevolmente finanziata dallo Stato. Il rapporto afferma che lo Stato disastroso in cui versa l'economia egiziana rappresenta un fattore particolarmente funzionale a persuadere le autorità del Cairo a prendere in considerazione la proposta. Che il governo di Tel Aviv potrebbe anche adoperarsi per rendere maggiormente allettante, avvalendosi dei propri potenti agganci presso gli Stati Uniti, per attivare una campagna internazionale di raccolta fondi che, secondo le valutazioni del Centro Studi israeliano, potrebbero assicurare un ricavo pari a 32 miliardi di dollari. Secondo il documento, si tratterebbe di una soluzione innovativa, economica e sostenibile, nonché un investimento molto utile per Israele in una prospettiva di lungo periodo. Da un lato perché la riqualificazione di Gaza fornirebbe alloggi di alta qualità ai cittadini israeliani da insediarvi, e dall'altro perché l'afflusso dei capitali israeliani in Egitto contribuirebbe sia a stabilizzare il paese che a ridurre le ondate migratorie dirette verso l'Europa. Nello studio si sostiene che anche l'Arabia Saudita trarrebbe ampio beneficio dall'applicazione del progetto, dal momento che l'espulsione dei palestinesi altererebbe lo scenario in maniera tale da rendere del tutto prive di significato le ricorrenti operazioni militari che Israele effettua presso la striscia di Gaza. L'eliminazione di un costante elemento di tensione con il mondo arabo, come quello costituito dai palestinesi residenti presso quell'angusto affazzoletto di terra, agevolerebbe la promozione della pace con Israele senza l'incessante interferenza dell'opinione pubblica locale. Allo stesso tempo, evidenzia ancora il rapporto, una quota di palestinesi deportati dalla striscia di Gaza potrebbe essere riciclata come mano d'opera a basso costo dall'Arabia Saudita, attualmente impegnata nella realizzazione di progetti faraonici come NEOM, l'avveniristica città del futuro. Il documento si conclude sottolineando che, vista l'impossibilità di prevedere se e quando si ripresenterà una congiuntura politica altrettanto positiva quanto quella attuale per procedere al ripulimento della striscia di Gaza dei palestinesi che la abitano, il momento di agire è ora. Una fonte anonima israeliana raggiunta dal sempre lucido Middle East Eye ha suggerito di trattare progetti strategici come quelli ho trapelato dal Ministero dell'Intelligence di Tel Aviv al quotidiano Mecomit o quello redatto dal think tank Misgav con estrema cautela, in quanto, cito testualmente, rappresentano le fantasie di gruppi estremamente marginali, simili a delle sette. Inoltre il governo israeliano si sta concentrando esclusivamente sulla strategia militare ed è più compiacente che mai con le richieste e i vincoli degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, ha evidenziato la fonte israeliana, il gabinetto di guerra israeliano comprende figure centriste come Benny Gantz e Gadi Ezenkot, che non si fanno illusioni circa la realizzabilità di questi folli progetti. Avvertimenti, quelli dettati dal buonsenso, quelli formulati dalla fonte israeliana Middle East Eye, ma che sembrano ridimensionati sia dai collegamenti tra il Ministero dell'Intelligence israeliana, il Centro Studi Misgav e i movimenti radicali dei coloni messi in luce da Mecomit, sia dalla linea operativa posta concretamente in essere da Israele, sia nei confronti della striscia di Gaza che verso la Cisgiordania. Una condotta tutt'altro che conforme agli interessi degli Stati Uniti, come denunciato senza mezzi termini da Daniel Kurzer, che in qualità di ex ambasciatore statunitense a Tel Aviv sotto all'amministrazione guidata da George W. Bush, ha esortato l'attuale governo statunitense ad adottare una postura più fermamente orientata a bloccare la strisciante annessione della Cisgiordania ad opera di Israele, perseguita in violazione di un impegno che il governo israeliano aveva assunto per iscritto nei confronti di quello di Washington nel 2004, quando, in una lettera indirizzata all'allora amministrazione Bush, Israele si era impegnato a smantellare gli avamposti e gli insediamenti illegali. Ora stanno chiudendo il cerchio. Non solo non stanno smantellando questi avamposti illegali, ma stanno cercando di legalizzarli ex post. Ed allora ne sono stati costruiti molti, quindi il numero è davvero significativo. Nei giorni scorsi, in aggiunta, la Knesset ha approvato la proposta del governo israeliano di Tel Aviv relativa alla nomina al vertice della sottocommissione parlamentare per la Cisgiordania, incaricata di gestire gli affatti inerenti rapporti con la controparte palestinese di Zvi Sukkot. Vale a dire un deputato di Azunot Hadid, il partito sionista religioso, che nel corso dei decenni, cito testualmente dal Fatto Quotidiano, è entrato e uscito dalle carceri israeliane con accuse di terrorismo e violenza nei confronti della popolazione palestinese. È stato accusato di aver partecipato all'incendio di una moschea, viveva in una colonia illegale in Cisgiordania, si è reso responsabile di diversi attacchi nei confronti di beni palestinesi e, per tutte queste sue attività, è stato anche escluso dal servizio militare perché è considerato un estremista violento. È anche ex membro del gruppo terroristico di estrema destra ebraico-israeliana La Rivolta, che sostiene lo smantellamento dello Stato di Israele in favore di un regno di Israele che segue la legge ebraica. Questo spiegherebbe il suo impegno che nel dicembre del 2015 lo ha portato a organizzare una manifestazione a Tel Aviv contro il servizio segreto interno Shin Bet, colpevole, a suo dire, di tortura nei confronti degli ebrei arrestati perché coinvolti nell'attacco incendiario al villaggio di Duma, vicino a Nablus, nel quale morirono tre palestinesi. Un attacco attribuito proprio al gruppo La Rivolta. Il numero di arresti nei suoi confronti non è finito qui. Ce ne sono stati altri, anche con l'accusa di aver preso parte alla pratica del price tagging, ossia operazioni mirate a vandalizzare, danneggiare o profanare beni e luoghi sacri dei palestinesi che può andare dal taglio degli olivi di loro proprietà alla violazione delle tombe. La nomina di Sukkot è stata confermata dalla Knesset nonostante la contrarietà delle forze laburiste, rappresentate dalla leader Merav Micheli, secondo cui a capo della sottocommissione parlamentare per la Cisgiordania è stata posta una delle persone più pericolose in Israele, un razzista, un pirovane. Quanto alle operazioni perpetrate nella striscia di Gaza, tra cui spicca il bombardamento del campo profu di Jabalila con almeno 50 morti e centinaia di feriti, il generale Marco Bertolini ha dichiarato, nel corso di un'intervista risalente lo scorso 29 ottobre, che l'intenzione della classe dirigente di Tel Aviv consiste nello schiacciare Gaza come un tubetto di dentifricio dal nord e spingere in palestinesi nel deserto del Sinai. Adesso li indirizzano nella parte sud di Gaza e poi da lì la gente andrà da sola nel deserto del Sinai. Già prima la densità abitativa di Gaza era la più alta al mondo. Se poi avranno a disposizione solo la metà del territorio, automaticamente dovranno spostarsi. L'Egitto dovrà prenderli e basta. Vogliono mandarli fuori. Il Cairo non potrà non aprire il valico di Rafa, altrimenti in una situazione del genere dovrebbe assumersi la responsabilità di un dramma sociale come quello che si verrebbe a creare. Gli israeliani vogliono mandare via i palestinesi, come è successo in Cisgiordania, con l'insediamento dei coloni. Lo schema che traspare ai documenti strategici israeliani ricalca sotto certi aspetti quello che condusse la Nakba, l'espulsione di massa dei residenti arabi promossa da Israele nel 1948 attraverso il cosiddetto Piano D, o Daletz in ebraico. Come ricostruisce lo storico Ilan Pappé in un suo fondamentale saggio, il 10 marzo 1948 un gruppo di 11 uomini, dirigenti sionisti veterani insieme a giovani ufficiali militari ebrei diedero il tocco finale al piano di pulizia etnica della Palestina. La stessa sera venivano trasmessi alle unità sul campo gli ordini di effettuare i preparativi per la sistematica espulsione dei palestinesi da vaste aree del territorio. Gli ordini erano accompagnati da una minuziosa descrizione dei metodi da usare per cacciar via la popolazione con la forza. Intimidazioni su vasta scala, assedio e bombardamento di villaggi e centri abitati, incendi di case, proprietà e beni, espulsioni, demolizioni e infine collocazione di mine tra le macerie per impedire agli abitanti espulsi di fare ritorno. A ciascuna unità venne dato un elenco di villaggi e quartieri urbani quali obiettivi del piano generale. Denominata in codice piano D, Daletz in ebraico, questa era la quarta e ultima versione di piani meno sofisticati che stabilivano il destino che i sionisti avevano in servo per la Palestina e per la sua popolazione nativa. I tre piani precedenti non avevano delineato chiaramente come la direzione sionista pensava di affrontare la presenza di una popolazione palestinese tanto numerosa che aveva sulla terra agognata come propria dal movimento nazionale ebraico. Quest'ultimo e definitivo progetto dichiarava in modo esplicito e senza ambiguità i palestinesi devono andarsene. Del resto, qualora la presenza dei palestinesi residenti in Cisgiordania nella striscia di Gaza avvenisse in qualche modo o meno, il crociale problema costituito da una demografia non altrettanto dinamica rispetto a quella degli arabo-palestinesi si potrebbe considerare risolto. Come affermò nel 2002 l'allora capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Moshe Yalon la caratteristica di questa minaccia è invisibile come il cancro ma si tratta pur sempre di cancro. La mia diagnosi professionale è che siamo in presenza di un fenomeno che costituisce una minazza esistenziale. Ci sono molti modi per affrontare efficacemente il cancro. Alcuni diranno che occorre asportare gli organi ma al momento io mi trovo ad applicare la chemioterapia. Gentile utente voglio richiamare la tua attenzione sul fatto che il contesto si regge unicamente sulle mie forze oltre che sull'apporto volontario fornito dagli esperti che accettano di confrontarsi di volta in volta con me. Ti invito pertanto a valutare la possibilità di sostenere attraverso un contributo commisurato alle tue possibilità e al giudizio che affibbia il mio lavoro questa attività che per quanto piccola sta crescendo rapidamente nonostante le mie ancora scarse se non scarsissime abilità tecniche che comunque conto di affinare grazie anche al tuo sostegno. Trovi in descrizione i link utili per accortare il tuo supporto al contesto e oppure se preferisci acquistare i miei libri. Grazie e buona visione.